Ciao ragazze e ciao ragazzi, stasera video outfit, volevo fare il video con questo vestito cammiciola da settembre-ottobre più o meno ovviamente per un anno d'inverno l'ho abbandonata, ma appena storia per le belle stagioni ho fatto no, devo rimettere il mio vestitino cammiciola verde perché lo adoro e la prima occasione, devo fare anche il video perché mi piace tantissimo, ve lo voglio far vedere è stato un regalo di una mia zia, per prima di parlare del vestito voglio parlarvi di ciò che mi sono schiappeggiata addosso allora, ho fatto un trucco, non so se si riesce a vedere, di base molto naturale vediamo se riesco a tirare giù una luce, no, si vede malissimo, comunque il viso è molto naturale ho messo una CC cream, gli occhi sono diversi, sono truccati in verde ho la palpebra con un verde molto chiaro e un verde scuro a delineare la palpebra mobile e al di sotto ho messo del verde scuro e tantissimo mascara sopracciglia ben strutturate, mi piace tantissimo in questo periodo sì, più o meno, sarà una netta questa parte che strutturo bene le mie sopracciglia mi piacciono anche molto più scure dei capelli, non so perché e le labbra sono molto lucide, ho messo un gloss con glitterini poi per i capelli ho raccolto il tutto in una cosa bassa chiusa con un elastico verde e come gioielli ho messo ovviamente il cuore a metà a braccialino la fedina e questo orologio dei toni verde grigiastro alle orecchie ho questi tappabuchi, come si chiama, la forma di stellina un anello con due pietre sul verde una collana con cinque pietre sul verde le unghie sono verdi e la serata del verde ok, questo è il vestito di cui parlavo la parte di sopra è tipo una maglina, quindi fino a qua e tutte le maniche e anche fino a qua dietro giù ha questa parte svolazzosa tipo camicia, credo che sia seta o qualcosa del genere spero che non sia seta veramente è tagliata a tondeggiante praticamente così qua ha tipo due spacchetti e dietro è un pochino più lunga tagliata uguale e ha anche due tasche praticamente inutili sotto ho messo dei leggings neri su ho deciso di mettere un giubbotto di ecopelle nero molto carino con la cerniera dorata che anche se porto chiuso all'effetto mi piace tantissimo molto rock, mi piace veramente tanto poi rimane comunque questo verde che stacca tra i leggings e il giubbotto che ora vado ad aprire perché a casa fa caldino spero di non essere troppo tagliata di testa sinceramente la borsa di stasera è questa verde tipo coccodrillata che è un secchiello in verde molto carina più o meno lo stesso verde del vestito e l'abbino sempre insieme mi piace tantissimo particolarità si chiude con questo coso praticamente dentro cioè puoi infilare la mano tranquillamente e sulla manica ha questa tartarughina molto carina allora gli stivali di questa sera sono questi in ecopelle nera con dietro più corto e avanti un pochino più alto con questo carissimo gioco qua di borchettine eccetera dal tacco largo e comodissimo sotto c'è una para tipo anfillo che mi piace da morire spero che il video di stasera l'outfit vi sia piaciuto mi possa essere stato utile per quanto un abbinamento nero e verde non è il genio della fantasia se così si può dire io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba grazie a tutti